Sono Roberto Ornaudo, sono direttore dell'Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario, un'associazione che gestisce la casa del quartiere di San Salvario e alcuni progetti di welfare nel nostro quartiere, nella città di Torino. La mia storia personale è quella di chi per alcuni anni ha lavorato nei servizi per senza dimora, quindi si è occupato direttamente di servizi pubblici per persone che non hanno casa, e che poi ha lasciato quel lavoro, ma che nella sua attività di operatore socioculturale in un'agenzia, un'associazione di sviluppo locale, ha continuato in qualche misura ad occuparsi, a incontrare questo tema e questo problema. Ho notato alcuni cambiamenti, alcune situazioni molto particolari che andrebbero affrontate, molto gravi. Credo che il numero delle persone senza dimora a Torino sia andato aumentando progressivamente negli anni, rispetto ad anni fa credo che le persone che afferiscono ai servizi pubblici per senza dimora siano molto più numerose. Non sono più, non sono tanto solo persone che hanno gravi problemi, uno stato di destrutturazione molto forte, quindi non solo il tossicodipendente, l'alcolista, il paziente o la persona con problemi psichiatrici, ma anche persone che hanno una vita, diciamo, tra virgolette normale, che hanno avuto una vita, tra virgolette normale, per esempio persone di sesso maschile, di età non più giovane, over 50, che perdono il lavoro, che non hanno più reti familiari di supporto, sono separati dalla moglie e che nonostante abbiano anche magari delle competenze, una vita, diciamo, di lavoro abbastanza normale, finiscono in mezzo a una strada. Alcuni rimangono lungo, alcuni sviluppano successivamente patologie depressive o di dipendenza, altri non le sviluppano affatto ma fanno poi fatica a rientrare nel tessuto sociale. Il mercato del lavoro è, come sappiamo, a Torino, nell'area torinese, piuttosto in crisi e lo è soprattutto per persone che hanno magari 55 anni e sono difficilmente ricollocabili.